La voce oggi è uno strumento essenziale nella maggior parte delle professioni e delle attività lavorative. Nonostante questo però ci prendiamo poca cura della nostra voce, si fa pochissima prevenzione e le patologie della voce sono in costante aumento. Questo perché viviamo in ambienti molto rumorosi nei quali tendiamo ad utilizzare la voce in modo poco appropriato. Abbiamo voluto stilare una sorta di decalogo della voce sana proprio per mettere in evidenza quali sono quelle situazioni nelle quali mettiamo a rischio la nostra voce. Con pochi semplici accorgimenti possiamo fare prevenzione ed evitare l'insorgenza di patologie dell'organo vocale. Prima di tutto la cosa più semplice, bisogna parlare lentamente con un volume adeguato e darsi delle pause per prendere fiato. Produciamo la voce grazie al flusso d'aria proveniente dai polmoni. È necessario quindi che vi siano delle pause affinché si possa fare un rifornimento adeguato d'aria per sostenere la vibrazione delle corde vocali. Le nostre corde vocali vibrano a grande velocità. In una voce femminile sono 200-220 cicli vibratori al secondo, in una maschile circa la metà, ma come si può capire è un grosso lavoro e tutto questo porta ad un essiccarsi delle corde, lo stesso flusso d'aria mentre parliamo tende ad asciugarle. Quindi è importantissimo idratarsi in modo adeguato, bere a sufficienza, evitare l'eccesso di bevande che contengono caffeina che possono farci disidratare, ma anche curare il grado di umidità dell'ambiente nel quale viviamo, nel quale lavoriamo. Quindi cercare di mantenere un tasso di umidità adeguato che in genere non deve essere inferiore al 40%. Ma dobbiamo anche ricordarci nel corso della giornata di non alzare la voce in modo inappropriato, di non chiamare le persone a distanza, di utilizzare dei mezzi alternativi per farci vedere, per richiamare l'attenzione e dobbiamo cercare di evitare di parlare in ambienti molto rumorosi nei quali tendiamo naturalmente ad alzare il volume della voce per superare il rumore ambientale e questo si verifica in auto, in treno, al ristorante. Cerchiamo di consigliare ai nostri pazienti e soprattutto agli insegnanti di utilizzare il più possibile il microfono nel corso dell'attività lavorativa in modo tale da evitare appunto lo sforzo vocale derivante dal voler superare il rumore di fondo col volume della voce. Altra cosa importante, bisogna cercare di non parlare durante l'esercizio fisico. Se stiamo utilizzando il fiato per un'attività fisica, per esempio in palestra, è opportuno non cercare di conversare contemporaneamente perché questo comporterà uno sforzo per le nostre corde vocali. Inoltre abitudini sane di vita con un buon ritmo sonno-veglia, una buona alimentazione equilibrata ricca di vitamine sarà estremamente salutare anche per l'organo vocale. Per ricordare tutto questo, tutti gli anni celebriamo la giornata mondiale della voce e in questa occasione è l'occasione per incontrare il pubblico e per fornire appunto tutti questi criteri che abbiamo citato per prevenire le patologie della voce. Quindi presso il Policlinico di Milano quest'anno, il 7 aprile, nella mattinata del 7 aprile ci sarà un incontro aperto al pubblico nel quale daremo delle nozioni di anatomia e di fisiologia sull'ordano vocale che sono essenziali anche per comprendere come prevenire i danni e il nostro staff medico e logopedico fornirà una serie di informazioni utili.